Oggi il mio fine è farvi vedere come anche lo yoga possa essere estremamente forte, estremamente muscolare, quindi non avrete bisogno di andare in palestra se iniziate a fare yoga. A me spesso chiedono ma tu fai anche pesi? No, assolutamente no, l'unico peso che sollevo è il mio corpo. Quindi vediamo come andare a fare un allenamento aerobico con lo yoga. Ci posizioniamo nella posizione del tavolo, che è una delle posizioni più complete, che conoscerete magari già se andate in palestra. E poi ci apriamo inspirando, espiro, torno e mi aprivo dall'altra. Spiro e stavolta porto davanti a me la gamba sotto, la stendo, rimango. Tenete conto che in questo momento tutti i vostri muscoli corporei sono impegnati. E torno, e da l'altra parte. e torno. Porto sulla gamba destra e la sinistra. Molti di voi avranno già mollato. A poco a poco riuscirete a stare su tanto tempo. Adesso scendiamo nel tavolino e riproviamo a fare la stessa sequenza. Quindi apro e torno. Io lo faccio un po' veloce. Ovviamente voi cercate di stare nelle posizioni magari un pochino di più. E torno, tiro sulla gamba destra e la sinistra. E adesso torno su nel tavolo e giù nel tavolino. Tavolo, tavolino, tavolo, tavolino. Ho sentito gli addominali, sentite tutti i muscoli che lavorano. Inspiro, espiro. Adesso e giù. Molto bene. E poi di nuovo mi apro e potete riprendere la routine. dall'inizio. E noi ci fermiamo. E vi ringraziamo per essere stati con noi. Tornate presto. Namaste.